Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Dura poche ore il dragaggio. Questa mattina all'apporto di Pescara, la procura distrettuale antimafia dell'Aquila blocca i lavori. Per il procuratore Rossini i sedimenti portuali sono contaminati da pesticidi. L'intervento serve ad evitare un danno all'ecosistema marino. Vediamo. È arrivata la draga più importante e più grande d'Italia. Questa mattina sono iniziate le attività di escavo e di versamento a mare. Nel frattempo stiamo lavorando per la fase 2. La fase 2 è quella più importante, che riguarda sia la canalina che il porto canale. Stiamo, nel gioco di 30-35 giorni, avremo le analisi definitive da parte dell'arte. Quindi dopo sapremo un po', avremo il quadro più delineato. È durata a poche ore la soddisfazione del presidente della provincia, Guerino Tessa, commissario straordinario per il dragaggio del porto di Pescara. Dopo mesi di attesa, finalmente si dava il via ad un'operazione che avrebbe dovuto rimuovere 72.000 metri cubi di materiali accumulati nello scalo commerciale. Ma Guardia di Finanza e Carabinieri della Tutela Ambiente hanno bloccato la ditta Gregolin di Venezia che si era giudicata all'appalto. Ci sarebbero dei pesticidi, in particolare il vecchio DDT, ad inquinare i fanghi della Darsena. L'operazione, coordinata dalla Procura Distrittuale Antimafia di L'Aquila, è finalizzata ad evitare un danno all'ecosistema marino. La misura del sequestro è stata preceduta da complesse attività di indagine e di perizie, come sottolinea nella nota il procuratore Alfredo Rossini, il provvedimento mira a scongiurare che venga consumato il reato di traffico e l'ecito di rifiuti previsto dal testo unico ambientale e dalla normativa a tutela dell'ambiente marino. I sedimenti recuperati dai lavori di dragaggio sarebbero stati immessi successivamente in un'area di mare prospicente e litorale pescarese. Sul dragaggio autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, che ha anche disposto il monitoraggio ambientale da eseguire prima, durante e dopo i lavori nel porto canale di Pescara, da tempo ci sono polemiche anche esposti sia sui costi dell'operazione e sia sulle modalità. Sulla qualità dei fanghi dragati al porto di Pescara interviene l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Le analisi dell'Arta e quelle dell'ISPRA, che è il consulente tecnico del Ministero, ha dichiarato il direttore generale dell'Arta Mario Amicone, non è mai emerso nulla di anomalo. Certificarono a suo tempo la presenza di inquinanti, ma entro i limiti di legge, e per questo arrivò l'autorizzazione da Roma al dragaggio. Mesi fa i carabinieri della Compagnia di Montesilvano sequestrarono una discarica abusiva dei fanghi del dragaggio. L'impianto si trovava a Moscufo, nel sito dell'Interland pescarese. Secondo i carabinieri sarebbero stati trasportati e interrati i fanghi derivanti dal dragaggio del porto di Pescara. In quell'occasione i militari dell'arma posero sotto sequestro anche mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. La manovra del governo, i sindacati scioperano e chiedono il taglio dei costi della politica. L'Abruzzo, dicono, ha perso occupazione, è necessario alleggerire le tasse sul lavoro. Sentiamo. CGL e Cisle Will chiedono una manovra con maggiore attenzione per le famiglie e l'alleggerimento delle tasse sul lavoro. Lo sciopero indetto dai sindacati si è svolto anche in Abruzzo. La nostra regione ha perso occupazione, avvertono le tre sigle, con cinque aree ufficialmente in crisi. Quella del sisma, la Val Pescara, la Val Sinello, la Val Vibrata e la Valle Peligna, quest'ultima riconosciuta a livello nazionale. In Val di Sangro c'è incertezza nella onda e nell'indotto con la Sever che invece cresce. È il quadro dipinto dal segretario regionale Will Roberto Campo che al Tg Max esprime le ragioni della protesta. Le ragioni sono la richiesta al governo, pur comprendendo che siamo sull'orlo del baratro, di modificare in alcuni punti la manovra per attenuare l'impatto pesante sui soliti che pagano in genere le manovre e quindi dare una speranza in più di rilancio dei consumi e quindi di crescita. Il dato occupazionale dell'Abruzzo rimane drammatico perché ha perso più occupazione in proporzione delle altre regioni con la crisi del 2009, non l'ha recuperata in un momento di relativa crescita e adesso sta per affrontare una nuova recessione. Tra le riforme fondamentali da fare in Abruzzo c'è sicuramente la sanità, prosegue Campo, ma anche il trasporto. Sul trasporto locale o si interviene rapidamente con una razionalizzazione o rischiamo anche lì un pesantissimo taglio dei servizi. Campo infine illustra la ricetta dei sindacati per uscire dalla crisi. Aprire subito il confronto sulla cosiddetta fase 2 della manovra e quindi cominciare a alleggerire le tasse sul lavoro. Anche a livello regionale è fondamentale avere la seconda occasione di incontro con il governo per sbloccare risorse ma anche partire con i piani di rilancio d'area per le aree di crisi e maggior formazione legata a quello che il mercato chiede. E Paolo Castellucci, segretario provinciale CGL Pescara, punta il dito sugli interventi degli enti locali. Crediamo quindi che c'è necessità di modificare non solo la manovra finanziaria ma di modificare anche le politiche degli enti locali che come a Pescara non possono guardare esclusivamente ad alcuni fattori senza considerare qual è la condizione dei cittadini pescaresi. In particolar modo non si possano spendere diciamo noi 190.000 euro per la città dello sport, 120.000 euro per le luminarie, un milione e mezzo per rifare strade, piazze con un esborso enorme dal punto di vista delle risorse finanziarie e poi venirci a dire che non ci sono i soldi per tutelare gli studenti disabili, gli anziani non autosufficienti e quindi che bisogna ridurre la spesa sociale. C'è bisogno quindi di cambiare la finanziaria ma anche di cambiare la politica degli enti locali. Il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Luce, incontrato all'Aquila, Patrizia Catenacci, dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, per affrontare le problematiche legate al passaggio della provincia di Ascoli Piceno al digitale terrestre. Lo switch-off sta causando enormi disagi ai residenti della provincia di Teramo, in particolare della Valle Vibrata, dove le trasmissioni televisive sono disturbate o addirittura oscurate. Secondo una previsione, ha detto il presidente Lucci, potremmo avere altri problemi analoghi anche con il passaggio al digitale della provincia di Ancona. Saranno colpiti soprattutto i centri della provincia di Chieti e in particolare il comune di Ortona. La sanità a piano di rientro e piano di sviluppo, la sanità abruzzese, non ha più eccessi di ospedalizzazione. Ridotti ricoveri inappropriati, gli ospedali di Teramo e Chieti sono eccellenze nella cardiochirurgia. Se ne è parlato oggi in un convegno a Pescara. Alcuni reparti di grande eccellenza nazionale, le criticità di qualche struttura ospedaliera pubblica e i numeri non proprio esaltanti di qualche azienda sanitaria privata, ma anche i primi confortanti segnali frutto della complessa opera di risanamento messa in atto con il commissariamento. È la fotografia del sistema sanitario abruzzese, illustrata a Pescara da Carlo Perrucci, direttore del programma nazionale Esiti della Genas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Al convegno, dal piano di rientro al piano di sviluppo, la sanità abruzzese si confronta con il resto del paese, tra rispetto del rigore e ricerca di innovazione. In particolare, sulla base di tabelle e numeri, è stato detto che l'Abruzzo non ha più eccessi di ospedalizzazione, sono stati ridotti i ricoveri inappropriati. Nello specifico, gli ospedali di Teramo e Chieti presentano numeri ben al di sotto della media nazionale, con l'ottimo livello espresso dalle cardiochirurgie. Ancora elevato negli ospedali abruzzesi, anche se la problematica è soprattutto nazionale, è il ricorso ai parti cesarei. Al convegno è stata segnalata la risposta ai cambiamenti in atto da parte dei medici di medicina generale, che in quelle città in cui gli ospedali sono stati riconvertiti, garantiscono prestazioni e servizi in forma associata. Il commento del subcommissario Giovanna Baraldi. A fronte del risanamento necessario, del rigore necessario e quindi della necessità di portare i bilanci in pareggio, cosa che l'Abruzzo è riuscita a fare in questi due anni, adesso abbiamo bisogno di parlare anche di innovazione e di sviluppo. Cioè, questo passaggio significa questo. Solo con il risanamento è possibile costruire un'economia sostenibile, dei posti di lavoro sostenibili e, per quanto riguarda la sanità, la cosa più importante, garantire prestazioni di qualità. Solo il risanamento, il dramma del debito che abbiamo cercato di superare in fretta possibile, ci ha permesso poi di fare le riforme strutturali. Perché il risanamento da noi è stato ottenuto non certo con dei tagli, ma esclusivamente migliorando l'uso delle risorse, cercando di ottimizzarle, facendo in modo che le tecnologie, le persone e i servizi fossero nel posto giusto, al momento giusto. Questo ci ha permesso di ritornare, diciamo, all'utilizzo delle risorse che ci competono come regione e fare in modo che da qui possa partire anche un rilancio di questa regione, che per le sue dimensioni, per le sue capacità, per i suoi professionisti, può essere in grado di diventare un riferimento nazionale. A fuoco nella notte agissi due autovetture appartenenti a familiari di Lorenzo Cozzolino, il boss 41enne di origini napoletane, che è in carcere a Vasto dal 22 novembre scorso con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Il rogo è doloso, indagano i carabinieri. A Vasto, l'amministrazione comunale presenta il patto per Punta Penna con l'obiettivo di far convivere ambiente e attività produttive in un rapporto di reciproco rispetto. Sentiamo. Sindaco, far convivere il mondo dell'ambientalismo con quello delle imprese, questa è la sua proposta, a proposito anche della centrale a biomasse? Patto per il territorio. È impensabile che si possa continuare in questa nostra città ad uno scontro così feroce da una parte e dall'altra. Quindi il ruolo dell'amministrazione è quello di cercare di mettere intorno a un tavolo il mondo dell'ambientalismo e il mondo imprenditoriale. Provo a farlo attraverso questo documento che è un vero e proprio patto per il territorio dove da una parte dobbiamo dire all'impresa Cara impresa non puoi pensare a fare insediamenti industriali, modificare le strutture e mettere la collettività da fronte a un fatto compiuto. Quindi chiediamo alle imprese maggiori trasparenze, un dialogo più proficuo con noi tramite anche il consorzio industriale. Dall'altro lato dobbiamo dire al mondo ambientalista che deve essere rassicurato che non è pensabile che se si muove un mattone al porto o se si muove un mattone su quell'aria si grida lo scandalo e si fanno iniziative e manifestazioni che hanno tutto il sapore di creare a volte dell'allarmismo del tutto ingiustificato. Ecco perché mi auguro che si arrivi ad una sottoscrizione di questo accordo naturalmente con il comune che diventa il regista, l'arbitro di questo discorso. Ha rischiato la vita ma è rimasto per fortuna illeso l'automobilista che poco dopo le 18 ha investito un cinghiale. L'incidente è avvenuto lungo la statale 16 in territorio di Casalbordino. Il grosso animale è sbucato al buio dai campi, ha tagliato la strada all'automobile e il conducente nel tentativo di evitare l'impatto ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di vasto e un'ambulanza del 118. Incastrato nell'auto l'uomo è stato liberato dai pompieri, per fortuna sta bene. Il cinghiale invece rimasto ferito nel violento urto è stato bloccato da una pattuglia del Corpo Forestale dello Stato. Sono decine negli ultimi mesi interventi dei vigili del fuoco legati a collisioni tra cinghiali e automobili sulla statale 16 nel tratto tra Casalbordino e Vasto. In nuova gastronomia, prodotti tipici, vino e olio con sapori a palazzo aspettando il Natale a Fossacesia. Sapori a palazzo davvero per tutti i gusti, con i vicoli le strade Palazzo Maier di Fossacesia vestiti nella suggestione di un Natale che qui sembra arrivare prima. Oltre 30 le aziende coinvolte nella preparazione di piatti tradizionali e nell'allestimento degli spazi dedicati alla degustazione in un'ottava edizione che ha festeggiato olio, vino, piatti tipici ma anche tanto altro. L'evento enogastronomico si è snodato nelle cantine e negli androni dello storico Palazzo Maier, proseguendo per i vicoli del centro storico fino all'antico Frantoio Stante dove si è celebrato anche il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia con i tratti dell'humor e le vignette di Pasqualone e Francesc Antonio. Molta satira, chiaramente, 150 anni dell'Unità d'Italia tra le tante manifestazioni questa promossa da Enrico Di Carlo, presidente del Prologo di Gallufo che è itinerante perché ha girato buona parte dell'Italia e addirittura anche in America a Pittsburgh e a Filadelfia. Pasqualone, quanto fa sorridere questa Italia? Beh, in 150 anni ne abbiamo viste di tutti i tricolori, ho messo in una vignetta anche perché giustamente è la verità. Beh, già il percorso storico, iniziando con le vignette del fine dell'Ottocento insomma, parlano da sé, già all'epoca il povero disegnatore passava i guai perché bastava un piccolo riferimento a qualche politico dell'epoca che si rischiava la galera, insomma, oggi non è più così per fortuna però insomma, alla fine è una bella storia itinerante. E ancora, botteglie artigiane, gruppi musicali con canti popolari, violini e contrabbassi, musica etnica. Sapori a Palazzo è stata promossa dall'amministrazione comunale di Fossacesia dall'associazione Itaca in collaborazione con Arsa, Coldiretti, CIA, Confcommercio e diverse associazioni locali. Il primo cittadino, Fausto Stante. Sono contento oggi di averla inaugurata insieme alle amministrazioni comuni gemellati d'Italia, ne sono quattro che sono gemellati con noi, quindi l'affluenza del pubblico c'è, il prodotto è buono e è un biglietto da visita di Fossacesia. E l'acqua fa lo ponte, e l'acqua fa lo ponte, lo vede lo zombe. Broma! Alla calata! Alla calata! Il Corpo Forestale dello Stato sequestra 80 kg di falsa mozzarella di bufala, eleva sanzioni amministrative per oltre 50 mila euro e denuncia una persona per frode in commercio e contraffazione di partite di mozzarella di bufala campana DOP. Oltre alle province di Caserta, Esarnia e Frosinone, l'operazione ha interessato anche la provincia di Chieti. Secondo le stime del consorzio, il mercato parallelo della contraffazione è un business di oltre 100 milioni di euro l'anno, con almeno 7 milioni di chili di mozzarella immesse irregolarmente sul mercato in Italia e all'estero. La pagina del calcio, il big match tra Lanciano e Siracusa, finisce in parità con i rossoneri che si consolidano in seconda posizione e vincono Chieti e l'Aquila, battute d'arresto per Giulianova e Celano. Il punto del lunedì. Il Pescara rimugina sugli errori dell'Olimpico in una sconfitta contro una squadra dal grande valore su cui pesa però il gol annullato ai bianco-azzurri regolarissimo. Per il resto le riflessioni sono per una flessione sensibile dell'undici di Zeeman, che soprattutto in fase di finalizzazione ha perso la lucidità dei giorni migliori. Tra errori e risviste arbitrali la classifica è sempre promettente, ma non più da vicecapolista, con la soddisfazione di avere in giro immobile il bomber con 11 centri. Pari e carattere per il Lanciano nel big match del Biondi. La capolista Siracusa gioca da grande squadra, imbrigliando i rossoneri con un gran primo tempo. Il gol però arriva su un episodio fortunoso. Poi è grande Virtus dal punto di vista della personalità, con una ripresa intensa e tambureggiante. Il pareggio su un altro episodio, con Daversa che tira e inganna l'estremo isolano. Segno X sostanzialmente giusto, seconda posizione in salvo, ma nel finale si recrimina su alcune offese gratuite dell'arbitro rivolte a Mammarella e Gautieri. È stata una bellissima gara, giocata a viso aperto sia da parte nostra che da parte loro, anche se noi nel secondo tempo meritavamo qualcosina in più. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile riprendere una partita dove si era messa difficile, però penso che nel secondo tempo non ci sia stata proprio gara. In seconda divisione gran colpo esterno dell'Aquila, che vince sul campo dell'Aprilia. In vantaggi laziali, i gol di Improte e di Pianese nel recupero spianano la strada agli Aquilotti, che ritrovano la seconda posizione. Robuante 0-3 del Chieti che spugna a campo basso e sale al terzo posto. Fiore, Lacarra e Sabatini legittimano un successo fondamentale per il prosieguo. Il Giulianova cede ad Eboli, pagando un primo tempo disastroso, mentre il Celano cade ancora in casa, in una posizione sempre più drammatica e una retrocessione già sotto l'albero. In Serie D il Teramo batte la Tessa Valdisangro per 3-0. L'altro derby vede il San Nicolò vittorioso a Miglianico, in posizione ora davvero difficile. Perde anche l'Angolana, tre punti casalinghi per la Sant'Egidiese. Campionato di eccellenza, la Miternina vince ancora e si laurea campione di inverno. All'inseguimento c'è solo il Montorio 88. Amiternina campione d'inverno in un traguardo mai raggiunto prima. Dopo aver schiantato per 3-1 il malcapitato casalingcontrada, la squadra giallorossa fa la bocca ad un prosieguo da protagonista, pregustando la Serie D. 14 giornate in Serie Positiva, un gioco frizzante, reparti solidi, la dicono lunga sul valore del club. Ieri assegno prima Molinari col pari del solito Antignani. Nella ripresa via libera ai gol di Pierleoni e Bovino. Alle spalle della capolista c'è sempre il Montorio 88 in smagliante forma a San Salvo e con un netto a 4-1 in proprio favore. Palombizio apre le danze, Marinelli illude i padroni di casa. Valbonesi, Marano e Palombizio si scatenano poi per un successonetto sempre dietro alla lepre a Miternina. E se il Francavilla ritarda ancora sprecando l'ennesima occasione, ieri pareggio interno a reti bianche col guardia grele, il Sulmona regola il capistrello grazie ad una doppietta dell'ungherese Balint con gol ospite di Villa. Il Mosciano piega il Vasto Marina grazie alle reti di Fusco e Martellini ritrovando il successo dopo un'attesa lunga due mesi mentre il Colonia Paese affosse il Martinsicuro per 2-1 con la nonna sconfitta esterna su 9 degli ospiti. Potacui, Picciola e un autorete di Scarpantoni marcatori del match. Reti bianche tra Alba Adriatica e Rosetana successo limpido, quello dello Sporting Tullum sulla Spallanciano a segno Zegatti, Cavuto e Bellè con un eloquente 5-0 il Pineto umilia i Castelli Sangro sempre più nelle zone calde della classifica doppiette per Di Felice e Miani gol di Ibakoku. Questa sera non perdete l'appuntamento con il calcio di Egole in studio Sergio Mancini è tutto per questa edizione della TG Max grazie per essere rimasti con noi arrivederci a tutti i altri